Parla di oggi, parla di noi, parla di noi, parla di noi, per il nostro cuore. Gli oi parlano sempre per amor, parlano per gioia e pure per dolore. Oggi un regalo digno di famiglia a me è dirmi amore che amo sempre a te. E noi le volo sempre con il cuore. Siamo il perdono oppure per il cuore. E noi non sia oppure per il cuore. E noi non sia oppure per il cuore.